E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e così giochiamo a Roblo E siamo tornati negli escape Più precisamente stavolta non dovremmo proprio scappare Ma rapinare una gioielleria Esattamente, sembra davvero interessante Fereniki si è proprio vestita A tema, anche io lo sono, però Fereniki Fa sempre ridere con quella faccina Sono un ladro felice E già, una cosa un po' strana Andiamo? Ma se devi rubare, almeno sono felice Ma c'è proprio un'organizzazione incredibile Vai! Bravi, guarda, sono già bravissima Aspetta, io ho un po' di difficoltà Ok, eccomi Hai fatta? Perché sei troppo ciccione, vieni Puoi dirle in modo più delicato Aspetta, qui dobbiamo fare equilibrio? Aspetta Ma è complicatino Eh sì Ok, ok, un altro Eccomi Vieni Vieni Ci sono, ci sono, vai, vai, vai Buongiorno Guarda lì, sono lì fermi Pronti a farti la pupù in testa, hai visto? Non provate a farmi una in testa, eh Una volta mi è capitato Non in testa, ma nella spalla A me no, per fortuna È stato un bruttissimo momento Non ho mai avuto questo privilegio Per fortuna Infatti ci stavo ripensando in questo istante Esatto Siamo morti entrambi perché stiamo dicendo stupidaggine Adesso ci sono i tubi arrugginitti Ma dai, ma oggi non mi sono scaldato bene Oggi non si informa Secondo me non ti sei svegliato col giusto umore Per rapinare una gioielleria Non ho fatto la colazione giusta per rapinare le gioiellerie Colazione dei ladri Vedi, non hai fatto la colazione dei ladri Esatto Cosa mangiano i ladri per colazione? Sentiamo Caffeina Ma qui è tipo mission in posti Esatto Dobbiamo scrivere Il laser Ho rischiato parecchio Arriva Mamma mia Ok, tutto a posto Guarda Eh vabbè, eh vabbè Si fa interessante con il laser Bellino questa roba E mi sta piacendo come l'hanno fatto C'è una telecamera però Sono diventato una statua Come sei finito lì sopra? Come? Ti ci puoi rampicare Vedi? Mamma mia E adesso Oh no Sì Piano 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 Ti spingo Ti spingo Non ci provare Guarda come Entra nel panico Ferenichi Aiuto Lasciami in pace Devo concentrarmi in questi labirinti che non sopporto Lo so che non ti piacciono proprio Noi adesso? Allora che cos'è? Queste sono le luci Mi hai spinto Scusami Dicevo sono le luci tipo quando c'è l'upenne Che deve schivare le luci Che lo illuminano e viene beccato Sì le luci esatto esatto Ok Abbiamo scoperto che le luci se ti prendono Oh mamma Oh 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 Ah La puoi saltare La puoi saltare Si lo so però era sotto Quindi mi ha ucciso lo stesso Divertente questa Aspetta aspetta ci riprovo Ok Complicato poi eh Vediamo Ferenichi la la Bra Bra Che risata era? Eh non lo so Era la risata Dello stef ladro Forza vai Ce la puoi fare adesso Ok Ok Devo prendere il giusto tempismo Brava Uh brava Uh 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 Aiuto Nel mio schermo li hai presi tutti Però immagino che tu li abbia schivati No li ho schivati Gli ho schivati Ok Nel mio schermo li ho presi tutti Cioè io non mi son vista sopra nulla Quindi si li ho schivati Giustamente Aspetta Mi sa che da qua non possiamo passare Perché scatterebbe l'allarme Dobbiamo passare da qua Quindi da qui Guarda abbiamo vittura scavato sottoterra Eh vabbè ma abbiamo fatto una voragine qua Eh sì però abbiamo trovato robe strane Non è proprio un bel posto Ma dove siamo finiti ragazzi Ah non è la più Mi hai spinta Non sei per niente simpatica Andiamo Allora conto che noi stiamo scappando da una jaileria Quindi solo uno poi si dovrà tenere il bottino Teniamo conto che Perché non possiamo dividerlo Perché non si divide niente No mi dispiace ma non si divide nulla Eh vabbè ma è pieno di cose Faticosissimo Andiamo forza forza Su Ferenichi La so che è stancante questa rapina Eh sì che è stancante Io penso che stanno passeggiate Invece mi fanno Premi il bottone Ah ecco si è aperto questo Vini Ah ok non capivo Addirittura eh Dove stiamo andando Dove siamo Allora siamo finiti Secondo me stiamo andando nella base della nasa Non stiamo più rubando Ah ok Ti spinge all'indietro Quindi devi cercare di saltare No vabbè Eh no è difficilissimo È difficilissimo Uh Uh Ok Infatti non capivo dicevo all'inizio Ma è bloccato Cosa sta succedendo Eh esatto anche io non capivo Devi solo saltare Solo Dai ce la puoi fare Guarda le eliche Eh vabbè Ti dico solo Queste sono le eliche di GTA Quando devi capire Dove fare le gare Ti dico solo che questa Ah beh Ok Era da qui già da due minutini Ed è ancora qua bloccata Quindi non è per nulla semplice Oh povera 3 Aspetta 2 1 Vai No non ce la faccio Ma è impossibile No è impossibile Cioè sono troppo veloci Sono troppo veloci Aspetta Come fai Concentrato Sto rallentando il tempo nella mia mente Mi ha distrutto Lo sto rallentando Oh no Rimarremo bloccati qua per sempre Allora Aspetta Senza saltare secondo me Proprio dritta Capito No cioè non fa Nel momento in cui fai un passo È già arrivata È troppo veloce Lo so Io non so È impossibile È impossibile Non so che fare Non so che fare Per la prima volta in un escape No 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 non fa Però Steph Va a casaccio No Siamo bloccati qua per sempre Siamo già diventati 4 Cioè è un po' sì Diventeremo 50 ladri Tu ti fermi qua È impossibile Oh Come hai fatto Dritta Dritta Appena vedi Capito No allora io vado dritta Prima o poi lo azzecco Mettiamola così Due di fila Esatto E no Non lo azzecca No io vado dritta Prima o poi li azzecco Che ti devo dire Cioè non riesco a prendere il tempismo Non fare così Sì che faccio così Non fare così Vedi un po' funziona Un po' no Vabbè dai Che ti devo dire No è impossibile Ma che hanno pensato Oh E ce lo fa Oh mio dio Bravissimi Bravissimi Meno male Andiamo Andiamo con i laser Ok Ho rimbalzato sulla tua testa e sono morta Come hai fatto? Non è la più pallida idea Me lo domando anch'io come ho fatto Sicuramente non lo so A tutti i livelli proprio Eh sì Oh mamma mia Ecco Ecco Già Ecco Tutto molto bello Grazie Ecco Ecco E non mi sembrava un bel posto Quindi mi sono un attimino spaventato Uff Fatto Bravissima 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 Arriva anche Steph Lo supera Andiamo Ma ti stavo aspettando Finalmente Che c'è? Oh i gioielli Braccialetti Gioielli Diamanti Smeraldi Allora voglio questa collana Sei molto bella Grazie Molto bella Anche questo diamante Diamante viola Bellissimo Grazie Dobbiamo uscire da qui Dobbiamo uscire da qui Vieni 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 Eh ci sono Perché se no ci beccano Ok ma anche qua c'è una telecamera Io non vorrei dire E forse sono spente Le avremmo disattivate in qualche momento Capito? Certo Avanzo un attimo Mi stanno prendendo in giro ora? Sì C'è una presa in giro Sì Cioè perché? Ti rendi conto Di quanto è difficile questa cosa? No è impossibile Davvero eh Ok 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 Uff Ma perché li vedo più stretti dei tuoi? Ma no È impossibile Ti giuro Se guardi il mio monitor Sono più stretti dei tuoi Cioè guardalo Difficoltà Sono più stretti Aumentata per Feri e Niki Io non lo so Allora Cioè lo devo fare Neanche il primo Ok che non stiamo scappando Ma stiamo rubando Però davvero è difficilissimo È un po' di livelli Super complicati Ma è un bene Almeno ci divertiamo Un bene Almeno non sono semplici come sempre Ce la posso fare Io ci credo in Feri e Niki Io ci credo Ma abbiamo finito? Eh suppongo di sì Devo guidare? Ok no È finito È finito È finito Guarda È finito? Sì Aspetta che mi prendo la medagliettina Però ve l'ho finito Ma non ce l'ho mai Anche se non me l'ho mai È finta Non serve a nulla Uh The secret badge C'è qualcosa di nascosto Ma stai zitto Ma stai zitto Ma c'è qualche altra cosa da fare Secondo te Ha detto Oppure stai No 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 Lui ha detto che c'è il secret badge Quindi vuol dire Che c'è una cosa nascosta Da qualche parte Dentro la mappa E ci sta sfidando a trovarla Accenti la sfida Non lo so Non lo sai Perché dipende Cioè se è una cosa Che richiede tanto tempo Non lo so C'è una macchinina Vieni a prenderti una macchinina Arriva aspetta Allora secondo me è qui Non lo so Secondo me è qui Guarda No 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 Speravo fosse in quella porta Perché quella porta In effetti non avevamo provato Neanche ad entrarci Ma non era così Secondo me non è vero Cioè ci sta imbrogliando Dici Eh sì No 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 Sì E beh siamo tutti ladri Cosa pensi Che sia onesto? Scusa Secondo me ci sta imbrogliando Per farti rimanere più tempo qua Il ragionamento tuo È comunque sensato Devo essere sincero È certo che è sensato Certo Il mio ragionamento È sempre sensato Sempre insomma Sempre sempre Allora io sto guardando Dall'alto tutta la mappa Vediamo se trovo qualcosa Di interessante Altrimenti ciao Ok dall'esterno Io non ho visto nulla Quindi io sono a ritura di entrato Faccio i vari livelli col pat Ok E vedo se c'è qualcosa Di nascosto Che magari a prima volta Non abbiamo notato Perché Ok Se l'ha fatto davvero È una figata Commettiamo che l'ha trovato Guarda Guarda qua Questo livello Uno dei più difficili Quindi sei distratto A farlo Ok Guarda a metà livello Lo vedi? No C'è una specie di porta finta La vedi? O non la vedi? Aspetta No non la vedo Guarda È vero È per forza qui dentro No Siamo seri? Cioè ho visto una roba del genere E non è neanche nulla? Non ci posso credere Dai È palese Aveva senso Aveva senso È palese proprio Aveva super senso Sono tornato qua Non ci posso credere Sono andato dall'alto E dove dicevo che c'è la porta Perché guarda La vedi da qua? Guarda il mio schermo Per favore Ok Praticamente guarda Magicamente c'è una stanza La vedi? Eh sì È per forza questo Quindi è qui dentro Il discorso è Come c'entriamo? Da fuori non c'è un ingresso Magari fatto apposta Per raggiungerlo col pat No Stavo provando esattamente quello Bisogna entrare da lì Il discorso è che io non sono riuscito ad entrarci Magari dobbiamo proprio farlo A piedi normale È così Capito? Se riesci a farlo tutto perfetto Riesci ad entrarci Io ci voglio provare un attimo Ok È il mio momento Ho solo un tentativo Perché non posso prendere il checkpoint Tu sei dall'altra? Non so come Ciao Vabbè Ok Ok Ma posso raggiungerti Facendola il contrario? Allora No non mi dà la possibilità Ok ti aspetto qua Dai vediamo se ce la fai Andiamo Ok Ok Perché così almeno posso scegliere il tempismo Secondo me devo scendere proprio a piedi Capito? Ok Quindi appena Ripassa Vado Fammi entrare No Allora non è quello No Allora non lo so Neanche quello Non lo so E allora guarda io dico Siamo stati bravissimi a trovare quella stanza segreta Ma il gioco è rotto Ci ha fregato Ci ha fatto perdere tempo Quindi Mettiamo un dislike alla mappa No non è vero Non è vero Non è vero Comunque ci fermiamo così per questo escape Speriamo che vi sia piaciuto Questo ragazzo è lo stesso che era creato Quello dove quando siamo scappati dagli zombie nella metropolitana Praticamente Quello della palestra Quello della palestra Ogni settimana lui con la stessa mappa la modifica E ci dà totalmente un livello nuovo C'è una figata pacesca Quindi ragazzi metteteli dai preferiti Secondo me perché merita Ogni volta è sempre divertente È una garanzia Capito Ogni volta che ne fa uno nuovo Sei sicura di divertirti Ma sempre carini Sempre diversi Sempre originali Perché poi i livelli sono molto a tema La cambia sempre È una roba incredibile Esatto esatto E quindi l'apprezzo davvero tanto Bene 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 che ci riesci così Se ci è giusto Ascettiamo il like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao